Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro gioker, siamo ritornati con l'appuntamento della domenica, domeniche di PES 2016 ragazzi Oggi siamo qua invece con un bel ball opening perché la scorsa domenica vi ho portato il Route Division 1 che non è andato malissimo ma stiamo messi veramente male Ragazzi invece oggi siamo qua su un bel ball opening perché comunque i ball opening di PES non pensavo ma vi piacciono veramente un casino regà veramente Quindi sono contentissimo, siamo qua specialmente perché si possono trovare i giocatori della UEFA Euro 2016 Stars dei playoff con 80 a più C'è solamente credo un pacchetto qua, infatti si trova al 100% un pallone nero, mentre qui ragazzi abbiamo sempre il Road to UEFA Euro 2016 Stars dei playoff E praticamente non ci sono limitazioni di acquisto e si possono trovare il 30% di pallone neri quindi abbiamo molte probabilità Io direi di andermi a aprire subito questo qui ragazzi che è il pacchetto quello là, cioè il pacchetto scusate, il pallone Quello dove si può trovare al 100% un giocatore, un pallone nero scusate come infatti vedete ragazzi Cioè quindi qui andiamo a botte di culo, facciamo 1, 2, 3, ops, oh mio dio un pallone nero Oh mio dio è arrivato e troviamo subito niente di che perché non è che sia stata tutta sta grande scena Però Wilshare 1, 82 che è buonissimo ragazzi, quindi noi ce lo mandiamo nella, aggiungiamo, 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 aggiungiamo a membri my club Perché comunque ci può servire, interessare e ci andiamo a aprire questi pacchetti, questi palloni, perché dico pacchetti, questi palloni Invece normali dove si possono trovare solamente il, oh abbiamo però grande, sono 3, 4, 5 palloni neri si possono trovare Attenzione non è male raga eh, abbiamo il 30% adesso, 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 ottimo, tempismo perfetto del giocherigno Fallone nero subito, oh oh pirlo, grandissimo pirlo, bello de mamma, quanto sei bello pirlo Ed eccolo qua signori, subito riconosciuto il grande pirlo, 86 ragazzi Mamma mia il nostro bel pirlo, lo mandiamo subito a membri my club, molto probabilmente ho fatto anche i posti Quindi già iniziamo con Andreone Pirlo ragazzi, infatti dobbiamo adesso togliere qualcuno Quindi ci andiamo a aprire un altro bel pallone ragazzi, già subito Andreone Pirlo Buono 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 ragazzi, speriamo di trovare un altro bel pallone nero Facciamo andare un pochino, adesso, 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 si fermi, si fermi, si fermi, si fermi, si fermi Troppo, troppo, questo me lo schippo, questo me lo schippo e troviamo Chambers Zompati, 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 bello così, pallone nero signori Pallone nero signori Non ci sta la scena quella fenomenale, quindi non abbiamo trovato nulla di granché Infatti Nord, Nord Facciamo passare un po' e adesso, 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 si freni, si freni, no non si freni Accelera, 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 si freni molto delicatamente, grandissimo Pallone nero signori, un altro, i scherpini mi piacciono E non ci sta tutta la scenografia quella cagliarda, quindi non abbiamo trovato chissà che cosa abbiamo trovato scone Dai ne voglio un altro Dopo Pirlo ne voglio un altro, non me scassà la ceppa di cazzo Zunzunza, zunzunza, frena, sì Pallone nero signori Scarpini color diarrea Oddio, c'è la scena, chi è questo? Oh, 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 che è Ibra Oddio, raga, ho flashato Oddio, Rodríguez è buono, raga, ho flashato Ibra, porco dino Ma siete matti Raga, ho flashato Ibrahimovic, vi giuro, raga, non mettete perché Oddio Ho visto quel codino lì che sventolava, porco dino Oddio, sei Ibra, madonna mia Rodríguez è buono, non è male, signori Però ho flashato di brutto Di nuovo pallone nero Ne stiamo trovando un casino adesso Vediamo un po' se fa la scena Non la fa la scena Chi è questo? È pelato Assessi brutto però, eh Adesso, 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 frena, frena Vai che l'abbiamo beccato proprio L'abbiamo beccato un altro pallone nero, signori Quanti ne stiamo trovando? Attenzione Si fa la scena? Che cazzo è? Non l'ho visto Non lo riconosco Ah, Lukaku Mamma mia, pisellone Lukaku, signori Dai, mi sento che mi devi dare qualcosa di interessante e di importante E adesso Adesso Incomincia a rallentare Incomincia a rallentare che c'è il pallone nero, sì Ma donna, le stiamo trovando un casino di pallone neri, signori C'è la scena? No, non c'è la scena È un altro nero In tutti i veri sensi della parola Abbiamo Ogbonna L'ultimo L'ultimo, ragazzi E può finire questo ballopening E andiamo Signori Con questo ultimo Pacchetto, chiamiamolo Dai, mi hanno rotto il caglio Chiamiamolo pacchetto Ormai ce l'ho qua Quindi chiamiamolo pacchetto Andiamo a bucio di culo One, two, three, four And five And six And eight And nine E tu madre E lo schippiamo, signori Baffan cuore Moti Tu sorella Comunque, ragazzi Che dire Io spero che questo ballopening Vi sia piaciuto Io, ragazzi Mi sono divertito un casino Perché comunque abbiamo trovato Veramente un bordello Di giocatori Buoni, alla fine E di pacchetti neri Veramente tantissimi Quindi, ragazzi Io spero che veramente Questo ballopening sia piaciuto Se ne volete altri Fatemi sapermine qua Nei commenti Arriviamo anche qui Se riusciamo A 30 mia like Ragazzi Per me sarebbe veramente Una grande soddisfazione Ve ne porterò altri Anche durante la settimana Se riesco Non vi prometto nulla Però Ci provo veramente tanto E noi ragazzi Ci vediamo In un prossimo appuntamento Con il vostro giocherino Tutti i social In descrizione Come pagina Facebook Instagram Tutto quello che do fare a voi Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Al prossimo appuntamento Ciao signori Ciao signori Ora Grazie a tutti.